Eh sì è di qualche ora fa, è di qualche ora fa ragazzi la notizia che è veramente sensazionale perché attenzione dalla Serie B alla Juventus, il nuovo bomber è a sorpresa, attenzione attenzione perché la Juventus ha messo gli occhi sull'attaccante di Serie B, già 4 gol per il 18enne che piace anche a Milan e Napoli, ovviamente ne parliamo in questo contenuto mi raccomando chiedo sempre il vostro supporto, il vostro sostegno se volete vederci andare avanti sempre meglio quindi iscrivetevi al canale che è gratis, lasciate un bel mi piace a dimostrazione che comunque vi interessa un contenuto del genere e anche semplicemente per farci crescere nell'algoritmo perché se non mettete like, se non condividete quindi fate anche velo e non commentate quindi fate anche velo e non attivate la campanella, il canale stenta a crescere come tutti i canali quindi mi raccomando massimo supporto e ci vediamo subito dopo, la sigla Bia Coreri per sempre, in ogni cielo e in ogni mente Bia Coreri per sempre, nel nostro cuore eternamente Il nostro cuore eternamente Eccoci qua, ben ritrovati a tutti ragazzi Come vi dicevo dalla Serie B alla Juventus Una sorpresa, 4 gol in 8 partite al suo primo anno tra i grandi Un ruolino di tutto rispetto in un campionato competitivo come la Serie B francese Quindi manco la Serie B italiana, la Serie B francese In Ligue 2, penso si dia Ligue 1 e Ligue 2 Le prestazioni di Eli Junior, attaccante 18enne dell'Orient Hanno già attirato le attenzioni delle big di tutta Europa Riporta calciomercato.it Stando a quanto riferisce masficages.com Non so come si legga, è un sito Infatti il giovane centravanti francese è finito sul taccuino delle big spagnole Barcellona e Real Madrid hanno iniziato a seguirlo, rapite dalle sue capacità di fare gol 5 lo scorso anno in Ligue 1 con appena 1000 minuti giocati Quindi l'anno scorso ha fatto anche la Serie A francese Ha fatto 1000 minuti, ovvero 10 partite più o meno E ha fatto comunque 5 gol per un giocatore giovane di 17 anni Tanta roba, una media di un gol ogni 200 minuti Che per un 17enne non è roba da poco E che ora è stata ritoccata verso l'alto Sono già 4, come detto, le reti realizzate in questa stagione Trascinando il Lorient al secondo posto in classifica dietro al Paris FC Prestazioni che hanno attirato anche le grandi di Serie A La Juventus ad esempio lo starebbe valutando E gli potrebbe consentire un percorso di crescita Che dalla next gen lo porta alla prima squadra Ora, parliamo di una cosa però Se il giocatore l'anno scorso ha fatto la Ligue 1 Poche partite ma le ha fatte Ha fatto anche diversi gol Quest'anno sta giocando nella Serie B francese Quindi già è un downgrade Ma perché è sotto contratto con il Lorient Se lo sono tenuti Non ha avuto offerte per il giocatore La squadra della Serie B francese E quindi va di conseguenza in Serie B Ma da lì a dire mettiamolo nella next gen Ora la vedo un attimino Una forzatura È un po' come prendi Holland Invece di farlo giocare in prima squadra Lo butti in next gen Ecco perché poi non se ne fece nulla La stessa trafila che potrebbe garantirgli anche il Milan Un altro club italiano Che avrebbe messo gli occhi su Eli Junior Insieme al Napoli Sì perché anche il Milan con la squadra Da quest'anno Il Milan futuro In Serie C Potrebbe fargli fare lo stesso percorso Ma io non credo Che sia proprio così Il 18enne dovrà continuare a far bene Con la maglia dell'Oriano In Ligue 2 Per confermare le buone impressioni Che gli scouting delle big D'Italia ed Europa Hanno avuto su di lui Del resto trovare un attaccante così giovane Che abbia già dimostrato di saper fare gol Non è mai semplice Ed è per questo che il francese È ora l'oggetto di desiderio Anche di Juventus e Milan Un affare in ottica futura sicuramente Ma che potrebbe anche essere anticipato in inverno Per provare a sbaragliare la concorrenza Anche perché Scusatemi Sapete bene che quando buttano gli occhi Su un giocatore del genere Il Real Madrid E altre big d'Europa Diventa difficile Rubargli il posto Perché comunque Tanti giocatori si fanno ingolosire Dalle offerte contrattuali Faraoniche Tipo 6 anni O 5 anni A 2 milioni e mezzo di euro Per un ragazzo che pigliava fino Al giorno prima 300 mila euro 500 mila euro È ovvio che è un salto enorme 5, 6, 10 volte Lo stipendio percepito in precedenza Quindi la Juventus E in questo caso il Milan Si muoveranno sicuramente prima Proveranno a proporre Una trattativa Io vi dico subito Eli Junior È del 23 giugno 2006 Quindi 18 anni appena compiuti Da poco 1,79 Francese Nazionalità francese Posizione Primaria Punta centrale Ma all'occorrenza Anche alla sinistra È trequartista Quindi duttile E polivalente Quindi potrebbe fare molto Scusate Sta gola Mi sta uccidendo Ormai da più di un mese Potrebbe fare il caso Proprio della Juventus Ha il contratto in scadenza Al 30 giugno 2026 Quindi poco più Di un anno e mezzo Alla scadenza naturale Del contratto E ha una valutazione Intorno ai 10 milioni Ok Quest'anno Ha fatto 8 partite 4 gol E un assist Quindi Direi che non è male Per niente Proprio per niente È un ragazzo cresciuto Dalle giovanili Dell'Oriane Dall'Oriane Under 17 L'Oriane B E poi L'Oriane Prima squadra Quindi Molto 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 Importante La crescita del giocatore Ha appena 18 anni Ripeto E Ha giocato anche in Francia Under 19 Ha fatto 3 partite In questa stagione E ha fatto 0 gol Nella Francia Under 18 Con 2 partite Ha fatto un gol Under 17 9 partite 9 gol Under 16 Addirittura nel 2021 9 partite 5 gol Under 16 Vuole dire Che aveva meno Di 16 anni Nel 2021 Aveva 15 anni Essendo un 2006 Quindi Tanta roba Direi tanta roba Da tenere d'occhio Il giocatore Comunitario Perché è francese Quindi Non ci sarebbero Neanche problemi Di Come si dice Slot Occupati da Extramunitari E quindi Ingaggiabili Solo Da luglio Del 2025 Consideriamo anche Una cosa Molto importante Il Lorient In serie B È retrocesso L'anno scorso Quindi Ha necessità Di far cassa Un attaccante Da 10 milioni In una serie B Per di più francese Non ci dice nulla Quindi Cosa può succedere Può succedere Che la Juventus Vada lì Con un prestito Neroso Con obbligo Di riscatto Fissato addirittura A 15 milioni Ma che di prestito Neroso Da 5 milioni E come vi dicevo Nel video precedente Liberandosi Degli ingaggi pesanti Di Arthur E Danilo Potrebbe Affondare il colpo E avere questi soldini Da dare subito Alla squadra Che milita In serie B Francese Io dico che Se è un giocatore Su cui hanno messo gli occhi Real Madrid Barcellona Juventus Milan È sicuramente Qualcosa di importante Poi un attaccante Che O Caratterialmente Pacato Oppure Non particolarmente falloso In 8 partite Non ha preso neanche Un cartellino giallo Quindi Né per proteste Né per esultanze Né per falli Particolari Quindi Diciamo che Non è proprio male Non è proprio male Visto anche il temperamento Di Dusan Vlaovic Che è invece Un po' il contrario No Dusan Vlaovic Ti dà quell'impressione Che appena viene stuzzicato Un attimino Viene subito Messa Messa alla prova Il suo temperamento Il suo comportamento In campo Cosa che non mi piace Assolutamente Per niente Ragazzi Fatemi sapere la vostra Ditemi cosa ne pensate Sul giocatore Andatevelo a vedere Andatevi a visionare Qualche gol Qualche partita E soprattutto Guardatevi le statistiche Che sono Tranquillamente ritrovabili Su Transfermarkt Dove Sito e portale In cui Lo ribadiamo sempre Andiamo a prendere Tutte La parte statistica Dei giocatori Che possono essere Sul taccuino Della Juventus Andiamo un attimino Soltanto A fare un escursus Nella squadra Dell'Orient E abbiamo Lui come attaccante Poi c'è Mohamed Bamba 22 anni 6 milioni Tosin 26 anni 2 milioni E mezzo Soumano 23 anni 1 milione E mezzo E Pagis 21 anni 1 milione Io credo che Sono più adatti Loro A rimanere lì Rispetto a un giocatore Che vale 10 milioni E Il totale Della Rosa E' valutato 66 milioni Quindi Insomma 27 giocatori 66 milioni Uno di loro Fa un sesto Praticamente Del valore totale Secondo me Per la serie B Potrebbero Andare anche A Comprare Qualcuno No Qualcuno Di Meno Importante Però Sempre Giusto Per Ritentare La promozione In Ligan Anche perché Faccio un esempio L'altro attaccante Mohamed Bamba Ha Fatto 5 partite 2 gol E un assist Quindi non hanno Solo attaccanti Pacco No Hanno anche Attaccanti Che sanno segnare Vediamo Tosin 7 partite 0 gol Tosin Diciamo E' messo Un pochino male Soumano Soumano L'altro attaccante 7 partite Un gol E un assist Pagis 5 partite 0 gol E 0 assist E' vero Non sono Tanto Tanto Prolifici Però Hanno anche Esterni Tipo Mvuca Joel Mvuca Che Ha fatto 8 partite 0 assist Ma ha una valutazione Intorno ai 3 milioni e mezzo Quindi hanno anche Altri giocatori Come Julien Ponceau Che fa 8 partite 1 gol 2 assist Quindi diciamo Che ne ha Più di uno Da poter schierare In campo Vediamo un attimino Come andrà avanti In fase di trattativa La cosa Noi vi terremo Come sempre aggiornati Ma secondo me E' un profilo Molto molto interessante E teniamocelo d'occhio Fino alla fine Forza Juve Fino alla fine Coppo Toscano Mi raccomando Iscrizione Like Condivisione Commento E attivazione Della campanella Per non perdervi Tutti i prossimi contenuti Mi raccomando Fino alla fine Forza Juve Fino alla fine Coppo Toscano Perché il Coppo Toscano Siete tutti voi Ciao ragazzi A più tardi